Quello dal portiere è un ruolo cruciale per gli equilibri e le dinamiche di squadra. Deve saper parare, giocare con i piedi, comandare i compagni. Deve essere in grado anche di trasmettere sicurezza e determinazione in ogni allenamento e in ogni partita. Però c'è un problema. Il giovane portiere già dal primo giorno che indossa la maglia da numero 1 è investito quasi come da un fiume in piena. Allenamenti improvvisati, allenatori da incubo, promesse delle società quasi mai mantenute, rimproveri continui dei compagni di squadra, decine e decine di genitori urlanti in tribuna, errori o papere ed infortuni. La parte interessante di questa storia però è che il ruolo del portiere non si sceglie. Si sente dentro già dal primo giorno che si arriva al campetto del paese. È un fuoco dentro che arde e merita rispetto sempre tutti i giorni. Sebbene il giovane portiere è fortemente motivato ci sono appunto diversi ostacoli da superare. Il primo è legato al fatto che purtroppo nella sua giovane crescita incontra sulla sua strada un sacco di improvvisazione. Pensi che tuo figlio sia in campo di imparare, invece è lì ad eseguire una serie di esercizi senza saperne il motivo, senza conoscere perché deve utilizzare quei gesti e soprattutto quando. Allora si presenta le partite con un velo di insicurezza in cui l'allenatore della squadra, solo perché il giovane portiere si allena col preparatore, si sente in diritto di rincarare la dose sbraitando contro di lui se non passa la palla velocemente al compagno, se non esce dalla porta e se non para un pallone che passa sopra la testa. Nonostante la società ti abbia promesso che tuo figlio avrebbe giocato tutto l'anno o avrebbe fatto partite alternate con l'altro portiere, da quel momento il giovane portiere viene considerato non adeguato e il campo lo vede solo in allenamento. Tutto vero ma non finisce qui. Il giovane portiere comunque ritorna in campo, anche se non è facile date le condizioni non ideali da sopportare. Tocca il primo pallone e mentre alza la testa eccoli i genitori urlanti sulle tribune che urlano passala, gioca la destra, rinvia, attento, occhio! Trastornato ecco che arriva il gol della squadra avversaria. I compagni di squadra cominciano a rimproverarlo dicendo che quella palla l'avrebbero parata pure loro, che non è capace di stare in porta e che è meglio se ritorna in panchina. Il giovane portiere è definitivamente messo al tappeto come un pugile sul ring alla fine di un incontro. Sei d'accordo con me che se tuo figlio continua a vivere solo una di queste situazioni all'interno del suo mondo non stiamo più parlando di crescita ma di distruzione dei suoi sogni? Ecco allora cosa deve sapere un giovane portiere se vuole arrivare in serie A. Le tre tecniche per costruire una mentalità d'acciaio ed esprimere una volta per tutte il suo vero talento sia in campo sia nella vita di tutti i giorni. Tecnica numero uno accedere al metodo di sviluppo della sua leadership. Tecnica numero due accedere ad un metodo efficace di allenamento. Tecnica numero tre accedere al metodo di gestione dell'attenzione. La cosa interessante è che con questo approccio l'improvvisazione non ha più accesso nella formazione del giovane portiere e non solo ma viene allontanato il controllo che altre persone come allenatori, genitori o dirigenti possono esercitare sulle prestazioni del giovane portiere. Questo perché lui stesso d'ora in poi ha in mano gli strumenti efficaci per essere un vero leader ed essere l'unico artefice del suo destino. Finalmente è libero di realizzare il suo sogno più grande, diventare un portiere di serie A.